Rivoluzione in arrivo nelle sale d'attesa dei pronto soccorso di tutto il Veneto. Entro 90 giorni, su disposizione della Giunta regionale, tutte le sale dovranno attrezzarsi con ambienti più accoglienti, wifi, riviste dalla legge, video di informazione, distributori d'acqua potabile, prese elettriche per ricaricare telefonini e tablet. Ma soprattutto i pazienti potranno interagire con una nuova figura, quella dello steward, una persona che si occuperà di accoglierli e di tenerli informati. Si tratta di un'umanizzazione ma soprattutto di una sensibilizzazione da parte degli operatori nei confronti dei pazienti, chi va al pronto soccorso evidentemente va per necessità impellenti, va perché preoccupato, deve essere rassicurato da un triage veloce e immediato, una valutazione appunto della situazione del paziente che in modo tale da smistarlo il più velocemente possibile nei reparti se c'è veramente emergenza e comunque di assisterlo nei dovute maniere anche nella fase di attesa se questa grossa emergenza non c'è. Gli angeli del pronto soccorso, così ribattezzati dal governatore Luca Zaia, forniranno anche spiegazioni a chi si dovesse trovare di fronte a delle lunghe attese informandoli sull'attività all'interno del reparto e sull'eventuale presenza di casi più gravi in modo che nessuno si senta trascurato e immotivatamente messo da parte. Io credo che sia assolutamente necessario gestire i pronto soccorsi con questa procedura visto e considerato che è un punto sensibile, è un punto critico, è un punto dove ci sono tanti accessi in un anno e per tante persone di categorie assolutamente diverse.